Anche quest'anno la Fondazione sostiene il Festival Paganilano di Carro, un festival nato in Valdivara ma che si estende proprio a tutto il territorio. Siamo particolarmente orgogliosi di avere finanziato questo evento che è storico, arriva la 17esima edizione che però oltre ad avere naturalmente le sue origini a Carro dove ci sono le origini di Paganini, ad una estrissicazione europea molto importante con dei concerti che dovrebbero andare in giro per l'Europa in quanto Paganini è stato un grande viaggiatore e un europeista anteliteram. Quindi questa è una delle iniziative che più mi è piaciuta e l'altra iniziativa importante è quella del campus dove i giovani cultori della materia possono avere contatti sia con i professori del Conservatorio Puccini che con altri illustri docenti. Sono 16 i concerti in programma per questa 17esima edizione, entriamo un pochino più nel merito della questione, che cosa vedremo quest'anno? Quest'anno il programma ovviamente è imperniato sulla figura del violino che è il protagonista di questa manifestazione ovviamente dedicata a Niccolò Paganini, quindi abbiamo invitato alcuni nomi di spicco del panorama violinistico internazionale, l'inaugurazione sarà fidata a Domenico Nordio, un grande violinista italiano, poi avremo Giovanni Angeleri che è stato vincitore del premio Paganini nel 1997, poi avremo altri bravissimi violinisti come la giovanissima Mascia Diacenco, Adrian Pinsaru e il finalista del premio Paganini, Areg Navarzaian Armeno. Oltre a questo avremo concerti in musica da camera con il Quintetto d'Archi della Filarmonica di Berlino, il Quartetto Nuss, il Trio Friedrich e uno spettacolo molto interessante alla Marrana di Montemarcello, la prima volta che partecipa a questo festival, quindi siamo orgogliosi di portare uno spettacolo in questa bellissima location, di Stuardo Soldà di Igor Stravinsky con Luigi Maio. Oltre a questo ci saranno delle letture con l'attore Roberto Alinghieri, una conferenza musicologica sulle composizioni di Paganini, eccetera, eccetera. Un programma molto interessante dal 14 luglio al 14 agosto.